Allora iniziamo questa serata, salutiamo e ringraziamo fin d'ora il professor Maurizio Ambrosini, un amico che ha dato la sua disponibilità ad affrontare questo argomento. L'accoglienza comincia dallo sguardo l'immigrazione oltre il sentito dire e abbiamo concordato questa serata proprio perché ecco il sentire generale è quello di non parlare più tanto dell'immigrazione finché si poteva cavalcare questo problema per motivi così di vuoto eccetera spaventando la gente se ne è parlato. Adesso siccome si fa silenzio poco se ne parla pare che non esista e invece è un fenomeno, un problema molto esteso, molto diffuso e sicuramente Maurizio stasera ci aiuterà a comprendere in quali paesi avvengono spostamenti, perché le persone lasciano i loro paesi, come stiamo noi qui in Italia rispetto ad altre nazioni, se per esempio i corridoi umanitari funzionano, i decreti quanti sono stati fatti a partire dal decreto Cutro e via via, che cosa producono le relazioni con gli altri, altre nazioni, per concordare degli spostamenti. Ecco gli argomenti sono tantissimi e credo che ponendoci in ascolto questa sera avremo modo anche di conoscere meglio e poi eventualmente di porre delle domande, esprimere il nostro pensiero dopo che Ambrosini avrà fatto la sua relazione. Ricordo con le parole di Don Ciotti, che ho scritto anche nel volantino, oggi sulla spiaggia di Cutro già c'è un altro relitto, sono le promesse naufragate dell'Europa dopo la traiocedia di un anno fa poco più. Ecco, mi taccio e lascio davvero la parola all'amico Maurizio. Grazie a voi per la vostra presenza e partecipazione. Bene, grazie di questo invito Don Mario, ho aderito con vero piacere, ero già stato tuo ospite una volta in presenza e una volta online durante la pandemia, se non ero. Esatto. Chiedo scusa in anticipo a chi avrà già sentito un po' di cose mie, ci sono anche tante persone amiche di Biella e dintorni che ho conosciuto nel corso degli anni, che qualche volta mi hanno già anche ascoltato, un particolare saluto a queste antiche e più recenti amicizie. Sarò anche felice di ascoltarvi, di dialogare, insomma, di sentire che ne pensate. Allora, chiedendo ancora scusa se per qualcuno saranno cose un po' già sentite, ma parlo soprattutto a chi invece per la prima volta mi sente. Per parlare di immigrazione, spero gli slide siano visibili, dobbiamo intenderci su chi sono gli immigrati, meno facile del previsto. Nel concetto di immigrazione internazionale convergono tre aspetti, uno spostamento, l'immigrazione è una forma di mobilità umana, l'attraversamento di un confine, e sappiamo oggi come questo elemento sia altamente problematico e discusso. Terzo, un tempo non breve. Ciò significa che gli immigrati non sono dei turisti, non sono dei visitatori occasionali, non sono all'estero per un pellegrinaggio, per un incontro culturale, ma arrivano, si fermano, e fermando si mettono in moto una serie di dinamiche, di domande nei confronti della società ricevente. Cioè cercano lavoro, cercano casa, vogliono ricongiungere la famiglia a un certo punto, mandare i figli a scuola. Questo istituisce la questione dell'immigrazione, quando gli immigrati arrivano e si fermano. Però, se passiamo dalla definizione teorica, la nostra esperienza quotidiana, ci accorgiamo di un cambiamento. Ve lo dico a partire dalla mia abitazione milanese. Come molti sanno, io sono un vostro vicino, sono di Vercelli, nato, cresciuto a Vercelli, per questo conosco abbastanza bene anche Biella e le sue valli. Però abito a Milano, ormai da molti anni. Nel mio quartiere, periferia ovest della città, c'è la scuola giapponese. Io ho avuto vicini di casa giapponesi, nessuno li ha mai chiamati immigrati. Poi c'è il quartiere ebraico, sinagoga. Ho avuto dei vicini di casa ebrei che venivano dal Medio Oriente, come molti ebrei arrivati negli ultimi decenni in questo quartiere. Loro venivano dal Libano, i miei vicini. Tra di loro parlavano arabo, nessuno li ha mai chiamati immigrati. Terzo, nel condominio sono venuti a vivere per un periodo due consoli tunisini con le loro famiglie. Anche loro, nessuno li ha mai chiamati immigrati. Immigrati per i miei vicini di casa erano quei giovani peruviani che per un certo periodo sono venuti a stare in un appartamento del nostro complesso. Lì abbiamo avuto assemblée condominiane sul problema degli immigrati. Che significa tutto ciò? Significa che nei fatti, nella nostra esperienza, nelle nostre percezioni e anche per certi aspetti nelle norme giuridiche che ci siamo dati, gli immigrati sono gli stranieri poveri qui residenti. Noi non chiamiamo immigrati né gli stranieri che arrivano dal nord del mondo, anche se rientrano nella definizione dell'ONU, e non chiamiamo immigrati le persone che appartengono alle élite che arrivano dal sud del mondo, calciatori, cantanti, attori, persone del mondo degli affari. I migrati sono gli altri, gli immigrati poveri. In questo senso, quando noi parliamo di immigrati, in qualche zona della nostra mente si accende una lampadina che dice questa è povera gente che arriva qui o per chiederci qualcosa o, peggio, per portarci via qualcosa. In ogni caso è gente più arretrata, meno evoluta, meno moderna, meno civilizzata di noi. Quindi il termine immigrati contiene un implicito senso svalutativo e minaccioso. Vi dirò che non ho un altro termine migliore da proporvi, parlerò di immigrati tutta la sera, finché avrete la pazienza di ascoltarmi, però questa premessa è necessaria. Noi in realtà già quando cominciamo a parlare di immigrati facciamo una selezione e consideriamo i migrati solo una parte degli stranieri residenti. Qualche tempo fa ho avuto un incontro, è venuta da noi la console rumena a Milano e giustamente lei diceva no, ma noi non siamo immigrati perché siamo cittadini europei. Naturalmente se lo andasse a chiedere a un campione di un migliaio di cittadini biellesi, milanesi, messi insieme le darebbero un'altra risposta. Ma dal suo punto di vista lei aveva perfettamente capito questo punto. cioè lei voleva riscattare i suoi concittadini rumeni residenti in Italia o a Milano dalla scomoda etichetta di immigrati dicendo che siccome noi abbiamo la cittadinanza dell'Unione Europea noi non siamo immigrati ma non è solo quello. Aiuta, nel tempo sta aiutando e aiuterà i residenti rumeni a riscattarsi da questa scomoda etichetta. ma per ora sono ancora nel numero di quelli che chiamiamo immigrati. Gli immigrati quindi, detto in modo un po' raffinato stanno sotto una doppia alterità sono stranieri e poveri. Si discute molto della diversità, dell'alterità a volte si pensa che sia lì il problema ma cercherei di essere più preciso il problema è l'alterità quando si combina con la povertà. L'alterità dei calciatori che fanno il Ramadan non è un problema se non per i loro tifosi che temono che siano meno vigorosi sul campo. Il problema è che appunto è cominciato il Ramadan che ci sono nelle periferie anche delle nostre città dei gruppi numerosi di persone povere che celebrano il Ramadan e che chiedono magari spazi dove potersi incontrare per celebrare questa festività religiosa. Detto in modo un po' più lieve potrei dire la ricchezza sbianca. Quando le persone sono benestanti anche le loro origini, il colore della pelle perde abbastanza di significato. E' interessante sempre su questo filone notare l'uso dei termini che noi adottiamo. Quando sono i nostri studenti che vanno all'estero penso che anche qualcuno di voi abbia avuto figli, nipoti, vicini, parenti che sono andati all'estero in Erasmus e parliamo di mobilità in questo caso. Quando sono i nostri giovani che vanno all'estero per un periodo quella si chiama mobilità. Invece se sono ragazzi del sud del mondo loro coetanei che vengono in Europa quella si chiama immigrazione per le ragioni prima dette. Quando sono professionisti del nord del mondo che vanno altrove si definiscono e vengono chiamati sempre di più con il termine inglese contratto expat espatriati sarebbe. Invece se arrivano dal sud sono immigrati. Questa è la differenza. Molto interessante è anche il termine extracomunitari perché ha recuperato la sua radice etimologica. Extracomunitari sono coloro che non fanno parte della nostra comunità di componente privilegiata della popolazione del mondo. Infatti noi non chiamiamo extracomunitari né gli svizzeri né gli statunitensi ma neppure i giapponesi o i coreani perché li sentiamo simili a noi prossimi a noi parte della nostra comunità. Extracomunitari sono gli altri per l'appunto gli stranieri poveri. Allora veniamo a quello che considero il punto saliente della presentazione la distanza tra la rappresentazione corrente e l'immigrazione reale così come la conosciamo dalle statistiche di cui disponiamo. La rappresentazione che qualche anno fa avrei definito l'immigrazione vista dal bar sport invece oggi è diventata una rappresentazione ufficiale semi-ufficiale quella dei maggiori media del Parlamento della maggioranza parlamentare del governo del discorso quotidiano. La rappresentazione dice che l'immigrazione è in aumento drammatico ricordo un ministro in un video che diceva un aumento esponenziale. L'asilo ne sarebbe la ragione prevalente perché aumenta l'immigrazione perché ci sono gli sbarchi e si confondono si mettono insieme sbarcati richiedenti asilo immigrati come se fosse più o meno la stessa cosa. Inoltre gli immigrati proverrebbero dall'Africa del Medio Oriente sarebbero giovani maschi musulmani l'immagine prevalente è quella dannosa per le finanze dello Stato l'immigrazione. I dati di cui disponiamo che potete per esempio controllare sul sito dell'Istat sul dossier immigrazione su varie fonti ci dicono che l'immigrazione in Italia da una dozzina d'anni è stazionaria poco sopra i 5 milioni di persone anzi è leggermente diminuta più 400 600 mila stimati immigrati irregolari facciamo 6 milioni per fare cifra tonda. allora è vero che ogni anno 120 150 mila acquisiscono la cittadinanza italiana però ci sono anche quelli che se ne vanno e ci sono i bambini che nascono che vengono contati nei 6 milioni anche loro sono immigrati quindi dire che l'immigrazione è stazionaria è un'approssimazione mi sembra più vicina al vero che l'idea di un aumento esponenziale dell'immigrazione i motivi per cui gli immigrati sono qui sono prima di tutto il lavoro sono giovani adulti che arrivano per lavorare per cercare lavoro poi ricongiungono le famiglie e i ricongiungimenti familiari sono il maggior fattore di aumento dell'immigrazione nei principali paesi sviluppati negli ultimi decenni i rifugiati e richiedenti asilo rispetto a tutto questo erano 340.000 alla fine del 2022 nel 2023 non abbiamo ancora i dati definitivi ma grossomodo ci saranno 50, 60, 70.000 richiedenti asilo in più vuol dire 400.000 sui 6 milioni cioè siamo sotto il 10% del totale il dibattito pubblico italiano si è concentrato in modo direi persino spasmodico su questa ristretta componente del fenomeno migratorio infatti l'immigrazione vera anche se forse potrà stupire qualcuno in Italia come in Europa è prevalentemente femminile per quasi la metà viene da altri paesi dell'Europa e per circa tre quinti viene da paesi di tradizione culturale cristiana i musulmani sono quelli del Ramadan sono naturalmente anagraficamente noi non sappiamo chi crede non crede quanto crede diciamo prendendo dalle statistiche i numeri relativi alla nazionalità possiamo stimare i musulmani circa un milione settecentomila cioè meno di un terzo del totale degli immigrati due milioni quattrocentomila lavorano regolarmente i sei milioni vanno a fare la spesa pagano l'oliva e fanno girare l'economia se hanno un mezzo di trasporto sempre più ce l'hanno magari vecchio è un po' scasso ma ce l'hanno fanno il pieno pagano le accise affittano casa comprano casa pagano tasse locali alla fine dei conti ci sono degli studi precisi sull'argomento la stima è un saldo attivo per lo stato di un miliardo e cento milioni di euro in circa ogni anno notate che nei costi che pure vengono conteggiati c'è la scolarizzazione di 870 mila alunni di origine immigrata ma la scolarizzazione che certamente è un costo per la ragioneria dello stato per gli insegnanti che salvano il posto di lavoro per le scuole che non chiudono nei piccoli centri invece apporta anche qualche beneficio i confini sono selettivi ho detto prima che noi chiamiamo immigrati solo una parte degli stranieri residenti c'è in realtà un funzionamento dei confini non come muri ma come filtri e i filtri si articolano sulle tre P passaporti portafogli professioni passaporti perché c'è uno scarto che va dal passaporto più potente del mondo quando ho fatto lo studio era quello giapponese può essere anche cambiato qualcosa ma grosso modo ci sono paesi che hanno dei passaporti compresa l'Italia che consentono l'accesso a più di 180 paesi del mondo senza visto e ci sono passaporti che invece consentono l'accesso a soltanto 30 paesi stranieri senza visto Iraq Afghanistan Somalia Yemen sono nella parte bassa della classifica quindi una prima disuguaglianza è che che alcuni possono circolare e probabilmente non hanno mai circolato così liberamente come ora mentre altri faticano anche solo a passare il confine del loro paese secondo c'è il potere dei portafogli noi discutiamo di ius soli ius sanguinis eccetera ci sono invece paesi che applicano lo ius pecunie cioè concedono la cittadinanza allo straniero che arriva e investe una certa cifra 700 800 mila euro che assume una o due persone tra questi c'è ce ne sono alcuni dell'unione europea come Cipro e Malta a Cipro un certo numero di magnati russi potuto prendere la cittadinanza circolare liberamente in Europa sfuggendo le sanzioni anti-Putin anche quando non concedono la cittadinanza i paesi riceventi quasi sempre Italia compresa c'è un istituto che si chiama Golden Visa il visto d'oro per chi se lo può permettere ho scoperto per esempio soltanto nel luglio scorso che l'Italia ha tolto il Golden Visa ai cittadini bielorussi fino ad allora nonostante l'invasione dell'Ucraina e uno stato di quasi guerra con la Russia e la Bielorussia Bielorussia noi concedevamo questa opportunità ai cittadini bielorussi di godere del Golden Visa con tutti i privilegi annessi per esempio la possibilità di ricongiungere la famiglia terza ragione di selettività sono le professioni nell'Unione Europea c'è un documento la carta blu che serve a far entrare professionisti che guadagnano un certo stipendio in Italia praticamente inesistente 500 persone ce l'hanno in Germania sono 10 o 12 mila e sono già quindi un certo numero ma si lamentano che sono pochi la professione su cui maggiormente noi importiamo persone qualificate dall'estero sono quelle dell'area sanitaria medici e infermieri secondo l'associazione che li rappresenta nati all'estero e che vivono e lavorano in Italia sono 77 mila secondo l'organizzazione internazionale del lavoro circa 100 milioni di professionisti della sanità e dell'assistenza lavorano fuori dal loro paese di origine quindi il sud del mondo fornisce al nord del mondo una risorsa essenziale come il personale per curare la malattia e la fragilità e il nord del mondo è dipendente tributario del sud del mondo su questo aspetto cruciale ma appunto quando sono medici infermieri sfugge l'idea che magari una parte di loro vengono dall'estero veniamo ai rifugiati questo diciamo un drammatico oggetto del contendere qui vedete dei dati poi manderò ho già mandato a Don Mario le slide chi vuole le potrà avere qualche numero anche questo ma brevemente nel mondo 2022 erano 108 milioni adesso purtroppo saremo già di sicuro sopra i 110 milioni di questi però più della metà sono sfollati interni cioè hanno trovato rifugio in un'area un po' più sicura del loro stesso paese quindi già questo vuol dire che più della metà sta in paesi solitamente poveri o al massimo intermedi infatti i tre quarti tre su quattro sono accolti in paesi a basso o medio reddito circa un terzo nei paesi più poveri in assoluto il 70% nei paesi confinati con quello di origine i rifugiati non si sono preparati a partire si portano dietro spesso anche bambini anziani malati se appena riescono e quindi fanno poca strada non potrebbero farne di più l'Europa nel 2021 secondo Eurostat è un dato che ho trovato sul sito di Eurostat accoglieva meno del 10% dei rifugiati del mondo nel 2022 è arrivata l'invasione dell'Ucraina e l'Unione Europea ha accolto circa 4 milioni di rifugiati il conto qui è un po' difficile perché vanno vengono poi ritornano si spostano da un paese all'altro ma insomma più o meno la cifra è sui 4 milioni quindi dal 10% saremo saliti a 12 o 13% ma non di più io credo che un giorno detto in modo un po' cinico verrà studiato come un grande successo della comunicazione politica avere convinto i cittadini europei che noi stiamo accogliendo delle masse enormi di rifugiati appunto questo aumento esponenziale degli immigrati che poi sono rifugiati e invece non è vero neanche questo nemmeno i rifugiati sono in Europa e tantomeno in Italia come vi dirò tra un attimo vediamo se riesco ad andare avanti facendo un po' di difficoltà vediamo un po' ecco chi accoglie i rifugiati in rapporto in valore assoluto il primo paese c'è il mondo di accoglienza la Turchia 3,5 milioni di rifugiati qui si potrebbe dire la Turchia così tiene sotto ricatto l'Unione Europea Erdogan ha potuto fare quello che ha fatto anche perché ha già dato dimostrazione che se apre le porte si riversano migliaia di rifugiati sul serio verso l'Europa segue da presso l'Iran 3,4 milioni accoglie rifugiati dall'Afghanistan probabilmente quest'anno quando usciranno i nuovi dati sarà l'Iran a superare la Turchia al primo posto poi abbiamo la Colombia che accoglie rifugiati dal Venezuela l'unico paese europeo tra i primi dieci al mondo per numero di rifugiati accolti è la Germania ma la classifica diventa ancora più sorprendente se guardiamo il numero dei rifugiati in rapporto agli abitanti dove abbiamo il Libano in testa con un rifugiato su sette abitanti il povero Libano con tutti i problemi che ha la Giordania ne accoglie uno su sedici un po' inaspettatamente al terzo posto l'anno scorso c'era il Montenegro con uno su diciannove nell'Unione Europea abbiamo la Svezia che ne accoglie uno su quaranta l'Italia quanti uno su centosettantacinque ucraini compresi circa sei ogni mille abitanti quindi il confronto con la Svezia per esempio anche solo nell'Unione Europea sono aumentati ultimamente ma sono aumentati gli sbarchi una certa ripresa del fenomeno degli sbarchi notate che gli sbarchi vanno avanti dagli anni 90 in su qualche anno di più qualche anno di meno in relazione a diversi fattori nel 2022 le richieste di asilo che sono poi la cosa più importante perché il fatto che le persone sbarchino può avere come sappiamo dei risvolti drammatici hanno rischiato la vita ma poi diventano un fardello per i paesi di accoglienza quando presentano la domanda di asilo altrimenti se passano e se ne vanno ci dovrà pensare qualcun altro ad accoglierli l'Italia finché ha potuto ha sempre agito da ponte cercato di far transitare le persone in cerca di asilo verso qualche altro paese tutto sommato ci sta ancora riuscendo le domande di asilo nell'unione europea nel 2022 sono state circa un milione in Italia 77.000 8% del totale guardate qui la graduatoria la Germania ha superato le 200.000 la Francia più di 100.000 la Spagna più di 100.000 dovrei aggiungere anche l'Austria persino la piccola Austria ha avuto più di 100.000 domande di asilo noi siamo quinti nell'unione europea con numeri molto più bassi con una componente di richiedenti asilo che diciamo sul milione di domande di asilo come vedete è molto minoritario altro grande tema e mi avvio alla conclusione è il rapporto tra immigrazione e povertà anche qui i luoghi comuni si sprecano sembra molto logico dire ma arrivano qui perché muoiono di fame perché non c'è niente del loro paese disoccupazione sovrappopolazione tutte le disgrazie del mondo è un po' più complicato di quanto può apparire il punto perché è vero che le immigrazioni hanno a che fare con le disuguaglianze di opportunità le persone non sempre ma nella maggior parte dei casi si spostano da un paese dove si sta peggio a un paese dove si sta meglio ma questa differenza è appunto relativa vediamo anche qui qualche dato anzitutto gli immigrati internazionali nel mondo sono circa 280 milioni se volete tornare a casa con una cifra questa sera immigrati nel mondo che hanno superato un confine immigrati internazionali sono 280 milioni 3,6% della popolazione mondiale sono cresciuti sì nel 2000 erano 100 milioni in meno in valore assoluto sono cresciuti ma la percentuale è più o meno costante perché è cresciuta anche la popolazione mondiale prima constatazione il 96% e più degli abitanti del mondo non si sposta dal suo paese per male che ci stia i poveri sono molti di più del 3,6% della popolazione mondiale purtroppo se posso fare una battuta a questo punto parliamo di cose molto serie consentitemi una battuta io li capisco benissimo quelli che non si spostano come vi ho detto io molti anni fa mi sono spostato da Vercelli a Milano per 75 chilometri per matrimonio se approfitto del fatto che mia moglie non mi sente trascinato in catene a Milano per matrimonio non mi sono ancora ripreso adesso non dal matrimonio dallo spostamento andare via dalla mia piccola città dove conoscevo tutti dove era tutto più facile a piedi andare in centro i vari documenti in una grande città dove tuttora mi perdo in giro e dove fare un documento in un ufficio è un'impresa che ti porta via mezza giornata fare tre commissioni a Milano in tre punti diversi della città costa più di mezza giornata dove appunto la toponomastica mi è ancora ostile tutto questo è uno shock da cui non mi sono ancora ripreso quindi gli abitanti del mondo sono come me cioè gente che dal suo paese non ha voglia di andare via che capisce le difficoltà i problemi poi per molti non è il mio caso le discriminazioni che dovrà subire e quindi si guarda bene muoversi ma andiamo avanti chiudiamo la parentesi i migranti seconda constatazione secondo dato non provengono dei paesi più poveri del pianeta se non in minima parte i principali paesi di emigrazione nel mondo sono nell'ordine India Messico Russia Cina certo c'è un problema di dimensioni demografiche ma anche fatta la tara della demografia i paesi di emigrazione non sono i paesi africani non sono i paesi poverissimi dell'Asia e cominciamo a arrivare al punto per migrare occorrono delle risorse stranamente viene spesso dimenticato questo banale fattore anche in Italia la graduatoria che forse qualcuno può interessare è Romania Albania Marocco Cina Ucraina Filippine ora nessun paese ricco ma neanche nessun paese dove si muore di fame per la strada paesi intermedi questa è la fascia da cui scaturisce l'emigrazione non la fascia più povera in assoluto infatti ci sono degli studi di economia dello sviluppo che dicono semplifico ci sono dei libri che io semplifico in una riga che emigra la popolazione che sta in una fascia compresa tra 1000 dollari e 8000 dollari di reddito pro capita all'anno sotto i 1000 dollari non hanno la forza le risorse per partire sopra gli 8000 perdono interesse perché stanno già discretamente nel loro paese emigrano soprattutto quelli che si collocano nella fascia di mezzo quindi a emigrare non sono i più poveri occorrono neanche i più poveri del loro paese occorrono delle risorse anzitutto economiche poi culturali e poi sociali per esempio emigra di più chi è istruito di chi non è istruito non è difficile se ci pensiamo capire perché tanto chi è studiato magari conosce qualche lingua veicolare poi l'istruzione apre la mente consente di coltivare delle aspirazioni e poi c'è chi ha dei titoli di studio che può spendere all'estero per esempio si stima che ci siano più medici africani fuori dall'Africa che in Africa sempre per le ragioni che ho spiegato sull'ultimo numero della rivista Africa c'era tutto un servizio sui sanitari africani che lavorano in paesi sviluppati una lettura molto istruttiva sono importanti poi le reti sociali nei luoghi di destinazione cioè emigra chi ha qualcuno che conosce meglio se è un parente che lo può accogliere e aiutare nel luogo di arrivo per le stesse ragioni chi parte da più lontano deve investire di più quindi è più selezionato di chi arriva da vicino mai visto per esempio mai trovato un immigrato filippino che dormisse per la strada o in un parco mai un cinese qualche latino americano ma sono in genere casi particolari gente che si è fatta buttare fuori di casa perché beveva solitamente e cose di questo genere potremmo dire potremmo dire di nuovo semplificando il discorso l'emigrazione è una strategia estrema di difesa di uno stile di vita da classe media per i parametri del paese d'origine ovviamente aggiungo che gli immigrati di solito fanno almeno in una prima fase un percorso socialmente discendente cioè nel loro paese erano classe media e qui invece si trovano nelle fasce dei lavoratori popolari più umili basta pensare alle donne istruite al loro paese che qui assistono gli anziani a domicilio tipico esempio di discesa sociale poi loro sperano di risalire nella loro mente la traiettoria ha una forma U dopo la discesa la risalita però purtroppo questa risalita non è tanto facile una minoranza soltanto ci riesce a questo punto lo slogan aiutiamoli a casa loro comincia a mostrare qualche pecca qualche difetto perché alla luce dell'analisi che ho brevemente esposto dovremmo aiutare i paesi intermedi le classi medie le persone istruite principalmente perché è da lì che viene l'immigrazione inoltre se parliamo di aiutare i paesi di origine come alternativa all'immigrazione non teniamo conto dei nostri fabbisogni di manodopera che sono tornati prepotentemente alla ribalta in Italia e in altri paesi e anche il governo attuale che non è famoso per un particolare favore verso gli immigrati ha emanato un decreto flussi per i nuovi ingressi da 450.000 nuovi immigrati in tre anni che con i ricongiungimenti familiari in 10-12 anni vuol dire un milione di nuovi immigrati ma di questo pochi si sono resi conto andiamo alla conclusione intanto vorrei sottolineare che l'immigrazione irregolare da dove viene chi la fa entrare non viene dal mare gli sbarchi sono la forma più visibile di ingresso ma sono anche la più monitorata gli ingressi irregolari avvengono principalmente mediante il canale degli ingressi turistici la maggior parte dei soggiornanti irregolari entra in modo regolare e poi si ferma sperando e in molti casi riuscendo poi in un momento successivo a ridiventare regolare circa 50 paesi del mondo non hanno l'obbligo del visto per soggiorni turistici in Italia non ricordo più se ho lo slide forse no comunque è interessante dire che nel 2010 non dirò che governo c'era in carica l'Italia ha tolto l'obbligo del visto a tutti i paesi dell'area balcanica compresa l'Albania e nel 2017 18 un altro governo ha tolto l'obbligo del visto a Ucraina già prima della guerra e Moldova per soggiorni turistici di durata inferiore ai tre mesi ma come è noto una volta che uno è entrato rimandarlo indietro non è tanto facile l'Italia ha fatto otto sanatorie in 34 anni la maggior parte degli immigrati adulti sono diventati irregolari grazie a una sanatoria e le sanatorie sono sempre concepite come delle concessioni nei confronti dei datori di lavoro i quali non necessariamente ma nella grande maggioranza dei casi sono datori di lavoro italiani spesso normali famiglie che hanno un problema di assistenza ad anziani e bambini considerazioni simili varrebbero anche per le migrazioni per cause ambientali cioè sono le migrazioni per cause ambientali ammesso che si riesca a identificarle perché non è tanto semplice noi incontriamo nelle ricerche delle persone che si muovono che si sono spostate capire esattamente la ragione per cui l'hanno fatto non è proprio un esercizio banale ma la maggior parte sono migrazioni interne gente che ha perso tutto che ha perso le greggi o i terreni non riesce a fare molta strada quindi per lo più le migrazioni per cause ambientali ammesso che si possano identificare ingrossano le megalopoli dei paesi in via di sviluppo sono una causa di questo grande traumatico fenomeno di inurbamento se vai i problemi ambientali possono agire come moltiplicatori dei conflitti già in corso per esempio i conflitti tra pastori e agricoltori nell'Africa occidentale si sommano con altri problemi e altri fattori causando sia conflitti che spostamenti andiamo alle conclusioni un passaggio sui corridoi umanitari una delle poche buone idee venuta dall'Italia partita dei richiedenti asilo e rifugiati un'iniziativa che viene da soggetti religiosi chiese cattolica e protestante che mettono insieme testimonianza aiuto diretto alle persone messaggio politico che i rifugiati non sono una minaccia sono arrivate circa 5.000 persone in Italia 6.500 in Europa direttamente dai luoghi in cui erano precariamente accolti di solito la maggior parte dal Libano e un certo numero dall'Etiopia più recentemente dall'Afghanistan qualcuno anche dalla Libia su cui si progettano anche nuovi corridoi l'idea le persone arrivano in aereo condizioni di sicurezza tagliando fuori eventuali trafficanti intermediari e vengono poi accolte sul territorio in maniera diffusa grazie all'aiuto dei volontari quindi questo mostra che c'è qualche soluzione al problema dei rifugiati che non è la chiusura delle frontiere e non è ricorrere ai rischiosi viaggi per mare concludiamo cosa si può fare beh anzitutto possiamo dire che serve una governance mondiale o almeno europea delle migrazioni delle migrazioni e dell'asilo ci sono i due global compact dell'ONU che vogliono stimolare migrazioni sicure ordinate regolate regolari regolate l'Italia però non li ha fermati quando sono stati proposti c'era un governo giallo-verde all'epoca che ha rifiutato di fermarli i governi successivi non hanno cambiato idea detto questo un primo punto di una migliore governance dell'immigrazione sarebbe distinguere diverse forme di immigrazione adesso per dirla in modo provocatorio gli immigrati non esistono esistono diversi tipi categorie forme di immigrazione ne abbiamo già nominata qualcuna gli immigrati qualificati gli studenti ricongiungimenti familiari il personale sanitario ecco noi dovremmo farci delle domande più precise del tipo volete le infermiere oppure no volete gli assistenti familiari per gli anziani oppure no a proposito un'altra battuta per sdrammatizzare visto che parliamo di cose piuttosto tristi e drammatiche c'è una battuta di LK una vignetta con i due mostri che parlano tra di loro e un mostro chiede all'altro che cosa possiamo augurare gli xenofobi di casa nostra risposta una badante vendicativa e la battuta coglie un punto possiamo non amare gli immigrati essere infastiditi degli immigrati e poi però diventiamo anziani e abbiamo bisogno a un certo momento salvo altri esiti ma se diventiamo anziani anziani avremo bisogno di qualcuno che ci assista e questo qualcuno ha molta probabilità di essere una donna immigrata quindi dobbiamo decidere se le vogliamo o non le vogliamo dobbiamo decidere se vogliamo gli studenti se vogliamo i lavoratori e così via se diciamo ci facciamo domande più precise ragioniamo su specifiche figure forse ci daremo risposte migliori segnalo che i grandi paesi extraeuropei di immigrazione hanno in genere delle politiche molto mirate su specifici profili di immigrati che sono ammessi a determinate condizioni un altro elemento potrebbe essere la reintroduzione della figura dello sponsor che era stata introdotta anni fa dalla legge turco-napolitano poi dopo un anno abolita non si è mai capito bene perché lo sponsor in realtà vuol dire un qualche non necessariamente un immigrato ma in realtà è quasi sempre un parente che garantisce con una pideiussione per favorire l'ingresso per un anno di qualcuno che arriva per cercare lavoro e se dopo un anno non l'ha trovato rientra al suo paese oppure perde questa cospicua pideiussione mi sembrerebbe un modo abbastanza saggio di favorire ingressi di persone che hanno qui delle sponde delle reti di riferimento le ricerche ci dicono che chi ha delle reti chi ha dei contatti che ha qualcuno che lo aiuta se la cava di solito meglio di chi non ce l'ha e mi sembra un risultato logico in generale è importante istituire canali di ingresso più convenienti di quelli irregolari perché oggi da molti paesi del sud del mondo l'unico canale di ingresso possibile per la gente comune è il viaggio per mare e la richiesta d'asilo per terra o per mare anche per terra tramite la via balcanica arrivare e chiedere asilo per quanto riguarda proprio l'asilo ci sono delle soluzioni alternative abbiamo accennato i corridoi umanitari ci sono i reinsediamenti che sono operati dagli stati sono più di centomila all'anno ma le richieste sono un milione e mezzo quindi il canale c'è il problema che non è alimentato in modo sufficiente reinsediamenti vuol dire che qualcuno che è accolto precariamente in paesi di immediato asilo quelli di confine di solito come vi accennavo può chiedere di essere trasferito in un paese sviluppato che accetta di prenderselo e in questo modo si condivide il carico dell'accoglienza e si danno degli sbocchi in luoghi dove è più facile riprogettare una vita ci sono le sponsorizzazioni dei rifugiati in Canada per esempio tramite sponsor privati ne sono arrivati più di 300.000 dal 79 a oggi 40.000 siriani scacciati dalla guerra quindi le soluzioni esistono è importante prevedere come per gli ucraini che possano scegliere liberamente dove poter riprogettare la propria vita anziché bloccarli nel primo luogo di arrivo quindi credo che in realtà non si tratta di contrapporre l'utopia o l'idea di accogliere tutti a una presunta presunto rigore a un presunto senso di responsabilità ma di percorrere e valorizzare le strade possibili per una immigrazione più ordinata regolare e anche sensibile ai diritti umani grazie grazie per la chiarezza e anche per la descrizione no geografica e numerica che ecco è bene conoscere perché per non pensare lucciole per lanterne insomma purtroppo i canali di informazione mass media ci raccontano le cose diversamente ecco al di là di questo io lascerei ecco la parola a chi ha intenzione di intervenire attivando il microfonino liberamente tra l'altro c'è ancora collegato sì Stefano Zucchi il direttore di Caritas di Ocesana poi ci dirà magari come ci troviamo a livello così locale in merito a questo questi spostamenti questi arrivi da quali parte e come li sappiamo accogliere o sostenere e voilà è Buonasera Don Mario, buonasera a tutti, mi scuso sono intervenuto, ho perso la prima mezz'ora quindi non so se la domanda magari ha già avuto una risposta nella prima parte, però mi chiedevo, visto che il fenomeno è macroscopico, visto il rifiuto che ci dava in questi ultimi minuti da parte dell'Italia di firmare e di accettare degli accordi che regolarizzino nel tempo, il flusso migratorio, è possibile pensare che questa volontà politica sia dettata dal fatto che il fenomeno migratorio può essere utilizzato come in campagna elettorale sostanzialmente, cioè rigiocato ogni volta in campagna elettorale per poter, venduto in campagna elettorale per far credere agli elettori di turno che sia più opportuno agire in un modo o nell'altro, in maniera più restrittiva o viceversa allargando un po' le maglie? rispondo subito, Don Mario, raccogliamo le domande? No, se c'è qualcun altro che vuole imporre qualche domanda, così poi... Io personalmente mi domandavo in questi tempi come mai è così difficile ottenere i permessi di soggiorno dalle questure. Ci sono giovani che sono qui da 7-8 anni e non riescono a ottenere il permesso di soggiorno, per cui lavorano così lavori stagionali con dei contratti, sembrano scritti, ma non so se siano reali, insomma, e vagano dal nord al sud e nel periodo di mezzo, insomma, se non trovano qualche accoglienza... io ne ho un paio di questi che si giostrano così con la grossa difficoltà di avere un permesso di soggiorno. Don Mario, sono Stefano, ciao. Ecco, ciao Stefano. Magari provo a dire qualche cosa per approfittare della presenza dell'ospite, condividere la riflessione, insomma. Ovviamente ringrazio per la cornice sintetica e precisa sul tema della rappresentazione. Dico prima una sensazione anche sul nostro territorio a conferma di quello che è stato detto, che non solo la rappresentazione non cambia, ma non cambia proprio ovviamente di conseguenza negli approcci né i tentativi di soluzioni alle questioni. Mi riallaccio a quello che dicevi, per chi ho visto tre presenti altre persone che operano nel sociale, per chi si occupa di accompagnare i migranti. Sembra davvero a volte che in percorsi già travagliati si voglia andare a cercare di affaticare, diciamo così, la quotidianità. Penso al malfunzionamento della macchina pubblica, ai tempi dei rinnovi di permesso di soggiorno. Questo condiziona molto il rapporto con i datori di lavoro, che nonostante la legge lo consenta, con la sola ricevuta tendono a non assumere il lavoratore straniero, ai tempi per presentare la domanda d'asilo e fare il C3, insomma tutte le varie procedure. Il malfunzionamento del sistema d'accoglienza anche per i richiedenti asilo, che abbiamo visto essere solo una quota piccola della parte migratoria, però anche questo dopo ormai diciamo ben più di un decennio di accoglienza sembra che non si impari neanche dalle fatiche, dagli errori e dal lavoro fatto in passato. Questo non per segnare solo il negativo, ma per rimarcare delle criticità che secondo me sono molto legate anche alla mancanza di consapevolezza derivante da una rappresentazione distorta della realtà, dove il migrante pare che abbia tutto facilitato, anzi che abbia delle egevolazioni aggiuntive rispetto alle altre persone. Poi volevo dire una cosa rispetto al tema delle povertà che è stata posta nella premessa del professore, a partire proprio dalla definizione delle Nazioni Unite e poi il tema della percezione dei migranti con questa doppia alterità straniero più povero. Però è anche molto vero che il fenomeno della povertà colpisce percentualmente, tutti i dati statistici lo dicono, in maniera molto significativa la popolazione, più significativa la popolazione straniera. Nel 2022 per dire sulla povertà assoluta censita in Italia, il 6,4% dei poveri assoluti aveva nel nucleo solo italiani, la percentuale si avvicinava al 30% nelle persone di poveri assoluti con almeno uno straniero, per dare una dimensione. Io concordo col professore che il tema della svalutazione, svalutativo insomma legato alla parola immigrazione, extracomunitaria eccetera, segna molto le rappresentazioni. C'è un tema però importante anche di lavoro sulla politica di contrasto alla povertà, che andrebbe probabilmente anche attenuare che è possibile, si possono vedere risultati, che andrebbe attenuare forse questo impatto. Volevo aggiungere qualche altro tema così magari il professore può aiutarci in qualche riflessione aggiuntiva anche su quello che cambia nelle immigrazioni. Intanto una premessa, lo dico per i biellesi presenti, che quando si dice che l'immigrazione è stabile nel nostro paese, insomma dal punto di vista sostanzialmente, noi parliamo di immigrazione stabile e bassissima sul nostro territorio perché siamo poco oltre il 5% di presenza di migranti sul totale della popolazione, cioè è una delle percentuali più basse a livello provinciale di tutto il paese, in particolare nel nord Italia, anche solo nel Piemonte la percentuale più bassa, mentre la percezione da bar, come veniva detto, o parlando con gli amministratori locali o insomma con la comunità, è che sia un fenomeno molto impattante e significativo sul nostro territorio. Evidentemente lo è, il 5% della popolazione non è residuale, però non è neanche così dilagante come viene presentato. Una riflessione che faccio spesso negli incontri che condivido stasera anche con i ragazzi è che questo dovrebbe essere un campanello d'allarme per gli amministratori e per la comunità, cioè laddove i territori attirano poco le immigrazioni vuol dire che c'è poco aria in un territorio che guarda al futuro, che offre delle opportunità, perché di fatto parlando appunto di immigrazioni legate, come veniva ben detto, al miglioramento delle proprie condizioni, a queste caratteristiche che il professore ha ben illustrato, se il nostro territorio è poco attrattivo è perché evidentemente i migranti respirano scarse opportunità per loro sul nostro territorio. Nonostante questo i problemi legati all'allocazione di una casa, all'inserimento lavorativo, allo sfruttamento lavorativo che è stato citato, sono altamente significativi sul nostro territorio. Pare ancora più grave questa situazione proprio perché è un fenomeno non solo non emergenziale e stazionario, ma stazionario anche con numeri governabili. L'ultima nota che mi sono appuntato tra i tanti spunti riguardante più estrettamente il tema dei giovani, con il fenomeno che non è solo biellese, ma anche sul territorio dei minori stranieri non accompagnati, che è un po' una novità in numeri crescenti come adesso, ma anche di fronte a questo c'è non solo la sensazione, ma si ha l'esperienza di un territorio incapace di governare questo fenomeno di nuovo residuale, ma significativo anche in termini di diritti e di prospettive di questi ragazzi, laddove parte per lo più un conflitto interistituzionale tra comuni e intercentrale, prefettura sostanzialmente sul governo di questa situazione, anziché provare a ipotizzare delle strategie territoriali per governare al meglio questa anche opportunità per il territorio di giovani che in qualche modo arrivano qui con energie, possibilità di essere formati e quant'altro. Anche poi tralascio il tema dei diritti. Quindi concordo che non si esce da una narrazione che richiama il tema dell'emergenza e che questa rappresentazione è distante dalla realtà. Onestamente devo dire anche un po' di rammarico, nonostante tanti anni di lavoro, come hai organizzato tu questa serata, questa sera, ma anche come Caritas, di incontri nelle comunità, di incontri nelle scuole, di interlocuzione con gli enti locali, siamo riusciti veramente molto poco a incidere su questo e mi chiedo onestamente quali invece nuovi strumenti siano a nostra disposizione per provare ad agire in questa direzione. Scusate se mi sono un po' dilugato. grazie. Ecco allora lasciamo. Grazie, intanto, punti molto ricchi, vediamo quanto riesco a rispondere. La prima domanda di Cristian era sostanzialmente sullo sfruttamento politico dell'argomento. Risponderei che è una dinamica visibile a livello internazionale. Basta vedere quello che sta succedendo negli Stati Uniti con la campagna elettorale di Trump che ha nell'immigrazione, nel fatto che è relativamente cresciuto anche negli Stati Uniti il numero di arrivi dal confine con il Messico è il tema principale della sua campagna elettorale ed è abbastanza probabile che vincerà le elezioni sostanzialmente sfruttando l'argomento immigrazione. Anche, non so, in questi giorni le elezioni in Portogallo, il successo del nuovo partito populista di destra ciega legato alla chiusura verso l'immigrazione oltre a qualche altro tema securitario. Quindi è un fenomeno in atto a livello internazionale. L'immigrazione è diventata uno dei primi punti dell'agenda politica e funziona soprattutto a vantaggio dei partiti, delle forze che chiedono di chiudere maggiormente i confini. Naturalmente ogni notizia che può suscitare allarme e accrescere questa domanda di confini viene sfruttata ed enfatizzata. Basti pensare alla diversa rilevanza che hanno i delitti compiuti degli immigrati rispetto ai delitti di cui gli immigrati sono vittime, comprese anche aggressioni razziste che però hanno pochissimo rilievo nella comunicazione pubblica. Adesso per fare un esempio molto urticante ci sono statisticamente in Italia sette casi di violenza sessuale al giorno. Alla fine la maggior parte come sappiamo sono perpetrate in ambito familiare in realtà. È una scelta dei comunicatori e spesso dei politici insieme a loro quella di quale rilievo dare a questi fatti. Ripeto ce n'è sette al giorno. Possono non parlarne, possono metterle in decima pagina, possono dedicare 15 righe, possono spararle in prima pagina. Qualche anno fa le immigrazioni a Roma, le elezioni comunali sono state decise dal fatto che nella settimana tra i due turni delle elezioni per il sindaco ci fu un caso di violenza sessuale. Pare addirittura fabbricato. Ricordo che domenica sera era la prima notizia del telegiornale delle venti. Io ho detto in casa il centrosinistra ha perso a Roma con questa notizia e così andò. Quindi è effettivamente un tema molto sensibile e molto sfruttato. Sempre per parlare di sondaggi di opinione. La rilevanza dell'immigrazione è scesa all'epoca della crisi economica del 2008 e all'epoca della pandemia. Quando ci sono altre preoccupazioni l'immigrazione scende nella mente, nelle preoccupazioni degli italiani. Quando passano queste emergenze, l'immigrazione risale. Altro elemento di rilievo, in genere sono più preoccupati dell'immigrazione e lo si vede anche dai risultati elettorali, non quelli che ce l'hanno sotto casa, ma quelli che non ce l'hanno. Per esempio, non so, per la Brexit hanno votato maggiormente i cittadini britannici di zone con basse percentuali di immigrati, non i londinesi. In Germania vota per l'estrema destra chi vive nella Germania dell'est, dove ci sono pochi immigrati. E potrei continuare con esempi di questo genere. È l'immigrazione immaginata quella che fa paura. L'immigrazione percepita, raccontata attraverso i media, non è l'immigrazione effettiva di soldi, per lo più. Anche in Italia ci sono dei risultati, per esempio, dell'osservatorio di Pavia, che studia la comunicazione, che dice che chi ha più paura degli immigrati è chi vede molta televisione, ovviamente, e chi esce poco di casa. È per questo maggiormente anziani, fasalinghe, disoccupati. Questa fascia è quella più preoccupata perché ha meno contatti diretti. Molte ricerche mostrano che chi ha una conoscenza diretta, chi conosce qualche immigrato, ne ha meno paura rispetto a chi non ne conosce personalmente. E questo ci dà anche un piccolo elemento di speranza su cui tornerò concludendo. Poi Don Mario mi diceva della difficoltà di ottenere un permesso di soggiorno, Stefano Zucchi lo confermava, ma credo che si abbinino diverse componenti. Una è quella che definirei l'ossessione del controllo. Noi siamo convinti e le nostre istituzioni politiche hanno raccolto e enfatizzato questa convinzione che gli immigrati siano troppo liberi, che circolino troppo facilmente e che quindi bisogna controllarli di più. Chi ha, come voi, rapporti diretti con le persone immigrate sa quante giornate di lavoro perdono loro e chi li accompagna e li aiuta spesso per andare in questura o in qualche altro ufficio ogni due per tre per fare un documento, per rinnovare un documento, per ottenere un nuovo documento, per chiedere notizie del documento che dovevano tenere e non hanno tenuto, per sentirsi rispondere magari che manca un altro documento, per sentirsi dare risposte diverse da un ufficio all'altro. È un'esperienza che tutti quelli che hanno un po' a che fare con l'immigrazione conoscono. Ci siamo dotati di una burocrazia pesante, farraginosa, costosa, per illuderci di controllare l'immigrazione. Non solo l'immigrato che deve ottenere un permesso di soggiorno, ma anche quello che vuole andare in vacanza al suo paese. Deve fare una coda in questura, ottenere un visto, documento, per poter uscire, rientrare senza timore di essere respinto. È una, diciamo, gigantesca finzione che, come diceva Stefano, serve a sedare l'idea che gli immigrati godano di troppe facilitazioni, di troppi diritti, di troppi privilegi. Questa convinzione popolare è falsa, ma dura a morire. Poi Stefano mi parlava della povertà e mi sollecita a chiarire un punto. Io parlavo della povertà degli immigrati al loro paese d'origine. Ciò che intendevo dire è che chi arriva non sono i più poveri dei loro paesi e non vengono dai paesi più poveri del mondo. Poi qui invece ha ragione lui che gli immigrati spesso cadono in condizioni di povertà, spesso faticano a stabilizzare il loro lavoro, hanno famiglie in cui spesso la moglie non riesce a lavorare perché deve occuparsi dei figli, se ha figli piccoli. Per esempio un elemento è che non hanno l'aiuto dei nonni. Una risorsa che consente a molte famiglie italiane di poter andare al lavoro. Inoltre non hanno le pensioni dei nonni, che per molte famiglie italiane nei momenti di crisi sono state un'ancora di salvezza. Al contrario, gli immigrati hanno spesso l'obbligo di mandare delle rimesse al loro paese, devono aiutare i loro parenti. Questo vuol dire che trattengono qui pochi risparmi, li devono mandare là. Arriva una crisi, perdono il posto di lavoro, anche persone, sono tutti nell'economia privata, come sapete, e in settori in genere esposti alla concorrenza. Arriva una crisi, anche un immigrato che aveva un posto relativamente stabile a tempo indeterminato, lo perde. In poco tempo cade in povertà, non riesce più a pagare l'affitto o a pagare il mutuo se si è impegnato in un acquisto di una casa, anche perché non ha le risorse dei nonni e ha pochi risparmi avendo dovuto mandare le rimesse. Quindi è verissimo che la povertà colpisce in modo molto pesante la popolazione straniera. Il fatto che gli immigrati siano stati sostanzialmente esclusi in gran parte dal reddito di cittadinanza ha peggiorato le cose. È una delle tante discriminazioni istituzionali che colpiscono gli immigrati. Si potrebbe fare un lungo elenco, pensate all'edilizia sociale, a come le legislazioni regionali in questo caso pongono delle condizioni tali da rendere difficile l'accesso all'edilizia sociale per gli immigrati, per le loro famiglie con figli. Sul fatto che l'immigrazione sia così bassa, biella, l'ho notato anch'io e qui non so dare una spiegazione, perché in genere l'immigrazione è, Stefano lo faceva capire, è uno specchio dello sviluppo. Ci sono più immigrati dove c'è sviluppo locale. I territori più floridi, più prosperi, sono quelli che attirano più immigrati. Per questo Lombardia, Veneto, Emilia, parti della Toscana sono le zone dove si concentra maggiormente l'immigrazione. Il Piemonte è già un po' meno, leggermente sotto. Questo dice in generale una perdita di dinamismo della nostra regione. Ma in particolare, appunto, io che vengo da una zona storicamente meno ricca del biellese, sono sorpreso dal fatto che la percentuale di immigrati sulla popolazione a biella sia inferiore a quella che abbiamo a Vercelli. Non so dare una risposta. Probabilmente presumo sia, per esempio, difficoltà di collegamenti, il fatto che il biellese sia un po' appartato rispetto alle grandi vie di comunicazione. Ci deve essere qualcosa del genere. Minori non accompagnati, qui è un problema un po' in tutta Italia. C'è un problema di politiche pubbliche. Il governo attuale, in modo molto discutibile, ha ridotto la tutela per i minori stranieri non accompagnati, addirittura prevedendo di accoglierli per fino a cinque mesi in strutture dedicate agli adulti, insieme agli adulti. Una cosa vietatissima dalle convenzioni internazionali sulla tutela dell'infanzia. Ma poi c'è una mancanza di corrispondenza tra i progetti delle famiglie e il funzionamento, o almeno la concezione, delle nostre politiche. Le famiglie mandano qui i figli, non sono poveri orfani abbandonati in genere, sono per lo più adolescenti i cui genitori hanno pagato per farli partire nella speranza che possano arrivare qui e uno accedere a un futuro migliore per sé, ma due mandare rimesse ai genitori. Le nostre politiche sono tali per cui il padre che vuole venire qui a lavorare viene respinto e cacciato, il figlio invece minorenne viene accolto. Il risultato è che arrivano i figli invece dei padri. Poi però questi ragazzi mal si adattano ai progetti educativi che li mandano in comunità, che vogliono mandarli a scuola, vogliono dare loro un'istruzione. Loro arrivano con il mandato di guadagnare dei soldi e di mandarli a casa, alle famiglie. Quindi mal sopportano la vita in comunità, molti, la vita in comunità, la scuola, alla formazione. Avevo proprio oggi l'uscita da una conferenza una dottoressa volontaria che segue un minore non accompagnato a quindicenne e mi diceva la sua grande frustrazione nel vedere come questo ragazzo non risponde alla proposta formativa, non si impegna, non impara l'italiano, perché lui è qui che vuole lavorare e guadagnare. Ecco, questo poi fa sì che un certo numero scappi, in genere vanno verso l'estero dove hanno dei parenti, dove forse sperano di poter realizzare queste loro aspirazioni, e qualche volta invece finiscono in circuiti poco commendevoli, proprio perché la loro aspirazione non corrisponde a quello che noi offriamo loro in termini educativi. Ultimo punto, la narrazione. Qui arrivo al mio piccolo granello di speranza. Se molti studi ci dicono che chi conosce gli immigrati ha meno paura di chi non li conosce, possiamo trarre uno spunto. Se noi moltiplichiamo i luoghi e i momenti di incontro, di scambio, di conoscenza reciproca, dove le persone si vedono in faccia, fanno insieme qualche cosa, che può essere lo sport, la musica, possono essere progetti di utilità sociale. Tutto questo aiuta a svelenire il clima, a distendere i rapporti, a facilitare l'accettazione. Più socialità, più incontri, più momenti condivisi guariscono dalla paura e favoriscono l'integrazione. So che già molte realtà locali sono impegnate in questo senso, molte parrocchie, molti circuiti associativi, molti gruppi di volontariato. Si tratta di insistere, di investire ancora di più, perché io credo che la medicina per la cattiva narrazione passi soprattutto attraverso l'incontro personale. Certo, spero che serva anche la cultura, la formazione, incontri come quello che abbiamo fatto questa sera. Non sarei qui se non ci credessi, ma penso che molto sia legato proprio all'incontro personale e diretto, che è il migliore antidoto alle paure. Grazie. Grazie, grazie davvero anche per gli interventi che sono stati fatti e sostanzialmente il titolo della serata è stato ribadito con queste ultime proposte. L'accoglienza comincia dallo sguardo, l'immigrazione è oltre il sentito dire, proprio conoscendo, incontrando questi ragazzi, queste persone che si capisce che poi sono come noi, insomma, e hanno delle potenzialità, delle sensibilità e tanta voglia di lavorare, per il motivo anche che devono in qualche modo rifondere quello che i familiari hanno certamente investito per il loro viaggio. Vi ringrazio davvero, professore, nome vostro, e vi ricordo che martedì 26 marzo, sempre online, ci sarà Don Ettore Cannavero, che abbiamo già avuto ospite, e ci parlerà un pochino della giustizia minorile, lui che è stato cappellano del carcere per parecchi anni, ed è vissuto per parecchi mesi dentro un carcere per capire la situazione dei minori, e ha messo su poi la comunità, la collina, dove ospita minori, e li aiuta attraverso il lavoro, attraverso la scuola, attraverso la vita sociale, eccetera, a inserirsi poi nella società, dopo un percorso, un'esperienza molto bella, però siccome adesso ci sono queste nuove leggi, insomma, sui minori, penso che valga la pena anche di capire e di conoscere. Grazie a tutti, grazie professore, buon riposo, buon proseguimento. Grazie a Pasqua, auguri. Altrettanto, è vero, ormai siamo vicini. Grazie, buona serata.